Yuhuu! Yuhuu! Finalmente! Eeeh! La data di GTA 5 su console XJ... Allora, no, a parte le battute, finalmente è arrivata la tanto attesa notizia, ovvero la data di lancio nella versione PS5, Xbox, serie X ed S di GTA 5, che... Insomma, potrà finalmente godere del suo mirabolante upgrade a partire dall'11 novembre. Un po' tardino rispetto alle attese, praticamente un anno nella nuova generazione, per un prodotto non della scorsa, ma della precedente ancora. Insomma, la vita, il ciclo vitale di GTA 5 verrà ricordato come il più longevo, credo, nella storia dei videogiochi. Probabilmente giusto World of Warcraft ha fatto meglio, o qualche MMO. Ecco, ma tolti gli MMO, tra i prodotti che non mi sono MMO, GTA 5 è l'unico ad aver saputo sopravvivere per tre generazioni filate. Oh, ragazzi, tre generazioni, un gioco solo, soldi a secchi. Quindi, finalmente arriverà questo upgrade che porterà con sé parecchie novità tecniche contenutistiche non ancora ben specificate, ma appunto ci sarà parecchio materiale inedito, nuovo, affinché la gente possa continuare a giocare al roleplay. Che gioia! Allontanando, di fatto, ancora, ulteriormente, quello che probabilmente sarà un nuovo GTA, che vedremo. Lo vedremo? A sto punto non lo so. Poi, certo, in questi giorni mi è caduto l'occhio anche su un video che dice A chi serve GTA 6 se può giocare a GTA 5 con una 3090 e 1000 mod installate? Sì, vabbè, mi pare un attimino, un attimino una forzatura, ecco, come concetto, perché sembra veramente che sta nella fantascienza. Anche perché, piccola parentesi a margine di questa cosa che in tanti avete segnalato, 1000 mod, io sfido l'utente medio, l'utente medio a far funzionare 1000 mod senza che qualcuna vada in contrasto con qualcuna. L'utente medio, eh, non parlo dell'esperto, l'utente medio, mettigli davanti 1000 mod e vediamo se le monta tutte. Al di là di questa piccola mia considerazione, comunque, arriverà, finalmente, spero che questa sia l'ultima generazione in cui avremo a che fare con GTA 5. Ma non per il gioco, io GTA 5 lo amo alla follia, o meglio, lo amavo, ma, no? Abbiamo già detto tante volte, inutile che mi ripeto. No, basta, no, basta. Di conseguenza, ci sarà questa novità, ma, ma, la cosa che mi intriga maggiormente è la dichiarazione di Rockstar in merito all'ormai imminente anniversario dei vent'anni di GTA 3. Vi rendete conto che GTA 3 tra un po' fa vent'anni? e, so, tipo, sette anni che giochiamo a GTA 5. Vabbè. Gita 3 fa da vent'anni e hanno promesso grandi cose per GTA 3. Che vuol dire tutto e niente. Allora, due possibili vie, no? Allora, via number one. Per festeggiare la versione di GTA 3 ti fanno la remaster. Il remake. Che ne so. Qualcosa per giocare a GTA 3. Strada numero due. Ti fanno i contenuti di GTA 3 per GTA Online. Tipo, che ne so. La mappa di Liberty City. Qualcosa. Ecco, a tema. La skin dei personaggi di GTA 3. La macchina. Non lo so. Qualcosa mi dice che la prospettiva più... Lo scenario più probabile è il numero due. E non il numero uno. Però, ripeto, adesso, a parte le battute. Spero, spero che si muovano per fare qualcosa di concreto. Anche perché, ripeto, Rockstar vanta alcuni fra i prodotti più amati della storia contemporanea. I vecchi GTA sono capolavori assoluti riconosciuti come tali da chiunque abbia gli occhi per vedere. Lasciarli lì a morire con versioni vecchie e stravecchie che ormai non danno nessun tipo di risalto a quelle opere meravigliose per il pubblico contemporaneo. E' un delitto. E' così difficile mettersi lì a fare un remaster di un gioco così. A fare un remake di un gioco così. Con il motore di un GTA nuovo. E' così... E' così terrificante la prospettiva di guadagnare altri soldi assecchiate. Io, più se va avanti... E più, da una parte, comprendo che sia bello stare in spiaggia col cocktail. Però, dall'altra, dico, ragazzi... Ma vi fanno così tanto schifo i soldi? Con tutto il bene. Poi ognuno dice, sai, io me godo il cocktail, non ne voglio... C'ho abbastanza cocktail. Allora dici, va bene, abbastanza... Però, no? Anche per... Cioè, per considerare l'esistenza di un pubblico che non è necessariamente legato al GTA Online. E che magari vorrebbe fare una cosa diversa, che non sia sempre GTA Online. Dico così per dire, io... In questa sede mi faccio rappresentante di questa ormai minoranza, che vuole giocare ai giochi... Possiamo giocare una volta? Sono sette anni che c'è ciccia sempre o stai... Basta! Basta! Ecco. Comunque, al di là di queste tristi, angoscianti considerazioni, io credo che questo sia tutto. Non devo dirvi altro. Anche perché non hanno detto altro, per cui c'è poco anche da stare a pensare, a vedere, a ipotizzare. Quello è. E questo ci prendiamo. Per il momento, quindi, io vi saluterei. Fatemi sapere cosa ne pensate. Vi, ovviamente, rimando a quando ci saranno novità. Ma considerando che le novità riguardano un prodotto in uscita l'11 novembre, a voglia, campacavallo. Ecco. Per cui, ragazzi, io vi mando un abbraccio. Grazie come sempre, noi ci vediamo. Alla prossima. Grazie a tutti.